Siamo arrivati, terza, quarta, quinta BAM, meno male che si ricorda tutto quanto Ragazzi siate clementi gentilmente Già spacco la scrivania sicuro Non rompetemi i coglioni, è impazzisco Ok, ok Ok, ok 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 ho finito, perfetto No, non l'inverte No, 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 fate minimax Minmax che non so cosa sia Ragazzi No, vabbè, ma voi avete dei problemi nel cervello No, vabbè, certo Che cazzo lo dico a fare? Ma che lo dico a fare? Cioè, è logico Inverte Non mi fottete, non mi fottete Sono troppo forte Oh cazzo, devo arrivare al livello 10 Prima che succeda qualcosa di brutto Che qua è già Ma baffanculo Sei sempre in tempo per cambiare Boys, mancano 5 secondi Potete mettere tranquillamente Boom La nona mappa Oddio Oddio Dai, devo andare dritto Vabbè, non è difficile Dai, non chilling Cosa è successo? È invertito? Non è invertito Ah, ok Si attiva dopo Cazzo La mia felicità sta incrementando in questo momento Wow, bellissimo Non si è attivato Regà, non si è attivato Oddio, si è attivato Cristo Ah Come faccio ad arrivare lì? Come? Naggia la miseria Oddio Come si fa? Come si fa che c'è lo schiantatore? No ragazzi Devo stare fermo sopra un carro Guarda Allora, rimango così Così non mi succede niente No, è matematicamente impossibile Vedi? Perché adesso succede questo Poi succede questo Vedi? È smurfed È smurfato Smurfato completamente È ancora invertito? Quanto cazzo dura? Olè Madonna ragazzi Rischiosissimo Allora, è vero che non è più invertito? È vero che non è più invertito? Devo Devo Bam Bam Perfetto 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 È vero che c'è il doppio salto È vero che c'è il doppio salto Ragazzi Dai ragazzi Ma sul serio Ma cioè È troppo facile È troppo semplice Cioè Datemi un po' di sfida Non laggare Non laggare Non laggare Non laggare Vortaggi di Pippo Ma che fa? Ma che fa? Perfetto Non capisco Buon bacco No Team Truck Succesa Cristo Ma che vordì No Sono piccoli Sono piccoli Sono I carri bislunghi I carri bislunghi I carri bislunghi Oddio Iperboost Dove cazzo sto andando? Iperboost Uuuu Iperboost Iperboost Aaaaaaaah Iperboost Iperboost Che cazzo è? Iperboost Cosa vuol dire? No double Motore No non laggare Ti prego non laggare Non serve Non è bello Troppo forte Sono troppo forte Non è la string che lagga E che questo pc fa schifo Culo vaffanculo Era il decimo Era il decimo Perfetto 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 gigante enorme Il laser truck No vabbè ragazzi Voi avete dei problemi nel cervello No voi dovete farvi curare ragazzi Dovete cazzo farvi curare Eh però io vi rompo il culo Eh come la mettiamo Adesso Mannaggione Fatemelo i ciccioni Fatemelo ciccione boys Fatemelo No io non ce la par Ragazzi è un gioco Non fatemi commentare Perché sennò ragazzi No L'invertito Fiii di puttana Chi è quello Gabbo Gabbo Madonna Dio Madonna Dio C'ho l'inverted Cioè alla fine Ma avete attivato l'inverter Come ci passo io Qua in mezzo Oddio 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 Ragazzi Hai messo invertito Damix Ti ho rotto il culo comunque Beccati sto Sto bob Ragazzi Non Cioè non potete Cioè non È infattibile Sono troppo forte Sono troppo forte ragazzi Che sono matematicamente Troppo forte Dio 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 Grazie a tutti.